Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre regolare al momento sull'intera rete stradale e autostradale della regione toscana. Prudenza per la presenza di personale in strada in A11 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Sul raccordo siena a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e Pogibonsi Nord. Domenica 9 ottobre pomeriggio per una festa patronale a Empoli, provvedimenti di circolazione e sosta dalla chiesa di San Paolo Pio V Papa a via Bartolini e lungo via Meucci fino alla medesima chiesa. In piazza Arcusio all'impruneta importanti provvedimenti alla viabilità dal 12 al 29 ottobre in occasione della fiera di San Luca. Sul ponte Vespucci a Firenze sono iniziati i lavori di riqualificazione e implementazione delle piste ciclabili. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!